Trevi Relax 90 è un cellulare ideato per un pubblico senior o per chi è poco pratico di tecnologia ma non vuole rinunciare alle funzioni tipiche di uno smartphone. Relax 90 possiede un grande display a colori touchscreen da 2,8 pollici, una tastiera con numeri fisici grandi e retroilluminati, doppia fotocamera, connettività Wi-Fi e Bluetooth. È dotato di funzione SOS integrata, attivabile rapidamente tramite un tasto dedicato, che invierà subito un SMS di avviso ai 5 numeri in elenco e poi comincerà a chiamare i numeri predefiniti dei tuoi familiari. Grazie al sistema operativo Android semplificato potrai utilizzare l'app Facebook preinstallata o scrivere messaggi e fare o ricevere chiamate e videochiamate tramite WhatsApp. Con la funzione di richiamo rapido puoi associare fino a 6 numeri le immagini personali dei contatti chiamati più frequentemente ed avviare la chiamata semplicemente toccando l'immagine. Calendario, sveglia, calcolatrice, lettore audio-video, torcia LED completano la dotazione del cellulare senior di Trevi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.